Joystick è un hacker, è uno in grado di volare alla grande, di navigare alla grande con queste autostrade informatiche, è un sabotatore, è un sabotatore però del futuro per cui è anche un meccanico del computer, è un vero guru, però una persona anche molto grezza, rozza, fa questo di mestiere, è un meccanico, è uno, come dire, industrioso, è uno bravo con le mani, è uno che ha una sorta di istinto, però è uno che poi ha assistito alla morte di un suo collega guru, il più grande di tutti e questa morte lo ha spaventato, per cui lui è uno che adesso non volerebbe mai più, non farebbe mai più quello, per cui è costretto a vivere di espedienti, per cui è stato addirittura costretto a vendersi gli occhi. Grazie. 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 Grazie.